Benvenuti a tutti, con questo tutorial vediamo come trasformare i nostri oggetti e ci sono varie possibilità per trasformare testo, forme o altro e possiamo andare a vedere innanzitutto qui in modifica andiamo qua su in alto, modifica, abbiamo trasforma e qui abbiamo tutte queste voci, vedete scala, ruote, inclina, distorci oppure rotazioni e riflessioni e poi abbiamo trasformazioni libere che noi possiamo attivare con i tasti di salta rapida CTRL T, quindi proviamo con trasformazione libera e viene visualizzata una cornice intorno al nostro livello, alla nostra immagine di trasformazione con gli angoli qui nelle parti centrali dei lati delle maniglie che noi possiamo trassinare con il tasto sinistro del mouse io mi posiziono qui sull'angolo in alto a destra tasto sinistro del mouse, trassino, vedete e ingrandisco e rimpicciolisco la mia immagine mantenendo le proporzioni, vedete come vengono mantenute le proporzioni e questa è una novità della versione Photoshop 2019 prima quando noi andavamo a trasformare, cioè trassinare il nostro potevamo trasformare in tutte le direzioni senza mantenere le proporzioni e da questa versione invece finalmente direi possiamo trasformare mantenendo le proporzioni non è che noi non possiamo fare come prima perché se noi premiamo il tasto maiuscolo vedete ecco qua che io posso trasformare in tutte le posizioni senza mantenere le proporzioni quindi questa è un'innovazione per quanto riguarda Photoshop 2019 ora torno come prima e vediamo adesso come trasformare senza andare ogni volta qui in modifica e premendo i tasti di selta rabbia che abbiamo visto prima CTRL T e all'interno dei bordi di trasformazione ci posizioniamo qui premiamo il tasto destro del mouse e vedete abbiamo tutte le voci che abbiamo visto prima quindi facciamo molto presto ad attivare la nostra trasformazione in questo modo e partiamo nel vedere le nostre trasformazioni da rifletti orizzontali quindi clicchiamo rifletti orizzontali ecco qua che il cammino vedete ce l'abbiamo in quest'altra parte perché appunto la nostra immagine si è riflessa orizzontalmente torno indietro e adesso premiamo sempre il tasto destro rifletti verticale e guardate adesso la nostra casetta praticamente si è riflessa verticalmente quindi abbiamo il tetto dalla parte bassa questa riflessione come l'abbiamo vista avviene perché parte da un punto, da un perno centrale che in questo momento non è visibile in quanto nelle ultime versioni bisogna attivare la visualizzazione e questa è un'altra novità di Photoshop 2019 per attivare il nostro perno per visualizzarlo dobbiamo andare qui sopra nella barra vedete delle opzioni e qui dobbiamo cliccare su questa casella attiva e disattiva punto di riferimento lo clicchiamo e ecco che adesso è visibile il nostro perno centrale quindi come ho detto prima la riflessione in questo momento avviene da questo punto cioè dal punto centrale ma vediamo cosa succede se andiamo a spostare questo punto centrale adesso torno indietro ancora e questo punto lo possiamo spostare sia col tasto sinistro del mouse clicchiamo vedete e lo trascino e si ancora facilmente ai punti dei nostri bordi di trasformazione oppure lo possiamo anche spostare vedete da qui sempre da dove abbiamo attivato abbiamo questa griglia vedete qui adesso è nel punto centrale se io mi posiziono sotto e clicco ecco che l'ho spostato infatti il nostro perno si è spostato nella parte bassa centralmente e adesso andiamo a vedere cosa succede con rifletti verticali quindi tasto destro del mouse rifletti verticali e guardate la differenza vedete adesso attivo anche ecco vediamo subito la visualizzazione anche del livello sotto praticamente la nostra casa si è riflessa qui partendo dal punto dal perno nella parte bassa centrale ora vediamo sempre entrando con CTRL T nella trasformazione e poi premo sempre il tasto destro del mouse vediamo prospettiva e qui intuitivo prendo dall'angolo tasto sinistro del mouse e cambio vedete la prospettiva torno indietro sempre dentro la nostra trasformazione tasto destro del mouse abbiamo visto prospettiva vediamo inclina e con inclina guardate mi posiziono qui al centro e inclino la mia immagine a destra e sinistra oppure da sopra a sotto ritorno indietro e adesso vediamo distorci che ci permette di fare tutto se premiamo il tasto maiuscolo ecco che noi possiamo inclinare cambiare la prospettiva e anche riflettere vedete la nostra immagine in tutte le posizioni naturalmente questo come ho detto prima premendo il tasto maiuscolo se adesso ad esempio inclino qui da destra e poi da sinistra creo una prospettiva di questo tipo e poi porto qui i livelli clicchiamo abbassiamo l'opacità di moto vedete che abbiamo creato un'umbra alla nostra immagine ora ci posizioniamo su questo livello questo qui sotto poi lo duplico anche così vediamo bene e vediamo invece questa volta come scalare quindi ctrl t ancora poi entriamo sempre qui nella nostra trasformazione tasto destro del mouse e vediamo scala con scala io prendo sempre qui dall'angolo vedete aumento e diminuisco le dimensioni del mio oggetto in modo sempre proporzionale come ho spiegato prima dobbiamo premere il tasto maiuscolo se vogliamo invece aumentare e diminuire la nostra casetta in modo non proporzionale se invece lasciamo il perno centrale e poi guardate premiamo il tasto alt e andiamo a trasformare qui dall'angolo scaviamo però partendo dal centro in modo proporzionale altra innovazione per quanto riguarda la versione 2019 è questa che noi una volta che abbiamo in questo caso aumentato le dimensioni qui nel nostro oggetto dovevamo prima nelle versioni precedenti premere invio oppure qui vedete da questa incontina qui su in alto che è la conferma di trasformazione adesso quando noi trasformiamo e poi lo vedremo anche nel testo e in altri oggetti noi possiamo cliccare al di fuori del quadro o sopra livello o anche al di fuori del quadro se io clicco con il tasto sento al di fuori del quadro ecco che ho convalidato la mia trasformazione adesso vediamo sempre con ctrl t poi sempre entrando che abbiamo anche oltre che scala ruota e qui è molto intuitivo vedete quando mi posiziono su un angolo il mio mouse diventa quella doppia freccetta curva quindi tengo premuto il tasto sinistro e ruoto la mia immagine a destra e a sinistra inoltre se noi ruotiamo sempre manualmente come abbiamo visto prima tenendo premuto il tasto maiuscolo poi clicco il tasto sinistro mi sposto verso il basso guardate posso ruotare con un'inclinazione di 15 gradi alla volta quindi clicco poi dopo vedete mi sposto mi sposto fino a arrivare a 45 gradi e questo lo possiamo vedere da qui su in alto qui abbiamo l'angolo di rotazione vedete che adesso è a 30 se io mi sposto guardate su in alto ritorno a 15 e a 0 inoltre se sempre col tasto maiuscolo rotiamo vado sempre verso il basso l'angolo di gradazione vedete lo troviamo anche qui vicino in quella casellina che adesso visualizza 45 gradi scusate prima ho detto fino a 45 invece noi possiamo ruotare andiamo fino giù vedete 150 poi andiamo avanti 165 e poi ritorna a 0 quando andiamo dall'altra parte cioè ancora verso sinistra ecco che stavolta avremo meno 165 meno ecco sempre meno 90 fino a ritornare a 0 e noi possiamo ruotare anche inserendo qui manualmente ad esempio mettiamo 45 ecco che il nostro oggetto si incrina di 45 gradi come naturalmente abbiamo visto con il numero negativo meno 45 ecco che si incrina cioè ruota dall'altra parte e sempre qui dalla barra delle opzioni adesso qui ancora control key vedete possiamo aumentare la larghezza e l'altezza introducendo noi la percentuale ad esempio qui invece di 100 mettiamo 150 ed ecco che abbiamo aumentato in questo caso sia la larghezza che l'altezza vedete sono diventati 250 perché è attivata questa catenella che serve proprio per mantenere le proporzioni se adesso disattivo questa catenella ecco adesso porto qui per esempio ancora a 100 ecco che stavolta abbiamo solo diminuito le proporzioni in larghezza ma non in altezza quindi ricordatevi di attivare la catenella se volete allargare sia in altezza che in larghezza mantenendo le proporzioni e anche qui vedete se noi ci posizioniamo sulla L di larghezza o la A di altezza premiamo il tasto sinistro del mouse diventa una manina e possiamo impostare la scala sull'asso orizzontale in questo caso premendo con il tasto sinistro vedete aumento e diminuisco trassinando a destra e a sinistra e guardate che naturalmente avendo attivato la catenella aumenta anche in altezza la stessa cosa lo otteniamo anche qui con ruota tasto sinistro del mouse possiamo andare a destra e a sinistra ma vedete qui avendo una gradazione che va avanti di un po' alla volta diventa molto difficoltoso quindi è sempre preferibile mettere dentro manualmente e infatti rimetto a zero inoltre possiamo anche inclinare abbiamo qui l'inclinazione orizzontale e verticale proviamo ma anche qui inseriamo manualmente facciamo di 45 ecco che abbiamo inclinato il nostro oggetto di 45 gradi orizzontale la stessa cosa la possiamo ottenere anche qui in verticale ora c'è rimasto di vedere come trasformazione altera ma lo vediamo con un testo ho inserito un livello testo senza rasterizzarlo e anche qui andiamo a premere ctrl t entriamo dentro per visualizzare tutte le voci trasformazioni guardate non abbiamo tutte le voci che avevamo prima abbiamo solo scala ruota inclina altera e anche queste rotazioni e le riflessioni e seguiamo altera e per alterare il testo qui in alto vedete nella barra delle opzioni abbiamo varie opzioni predefinite abbiamo arco adesso clicco ecco qua vedete tutti gli archi e poi abbiamo rigonfiamenti e poi bandiera pese e poi abbiamo pendio grandangolo gonfio e compresso e poi abbiamo anche torsione quindi abbiamo già da qui sopra dei predefiniti che noi possiamo applicare come l'arco vedete in questo caso qua e noi abbiamo la possibilità anche di intervenire su questi predefiniti perché se io vedete che abbiamo un punto clicco e posso spostare questa deformazione al mio testo inoltre possiamo sempre intervenire qui vedete abbiamo la piega orizzontale e verticale e anche da qui sempre col solito sistema tasto sinistro del mouse vedete vado avanti indietro muovo la piega del mio testo e anche per quanto riguarda orizzontale e verticale ma questi sono dei predefiniti vanno bene per i nostri progetti ma più di tanto non riusciamo a modificare adesso invece vediamo un testo rasterizzato cioè come livello quindi nascondo questo livello poi mi posiziono su questo lo sposto così vediamo bene e qui possiamo entrare control T ancora e poi altera oppure guardate torno indietro e sempre con control T e poi qui su queste icone vedete andiamo a passare dalla modalità di trasformazione libera a quella di alterazione quindi clicchiamo e adesso qui abbiamo tutti questi punti di ancoraggio se mi avvicino che noi possiamo trascinare come abbiamo visto anche prima vedete e creare tutte le trasformazioni al nostro testo poi anche inserendoci qui all'interno vedete possiamo abbassare allargare e poi qui abbiamo degli indicatori direzionali ecco qua che noi possiamo creare curve vedete come diventa molto semplice guardate ecco quello che abbiamo visto prima circa del pesce poi anche da qui vedete possiamo allungare insomma vedete voi di trovare la combinazione giusta ogni volta che vi serve per trasformare il vostro testo ricordate qui adesso abbiamo un testo rasterizzato quindi pixel e non più vettoriale adesso nascondo anche questo e qui ho creato vedete livelli porto su però devo selezionare ecco qua porto su tutte le mie lettere ho un livello per ogni lettere sono ancora in livello testo quindi vettoriale seleziono tutti quanti i miei quattro livelli e poi tasto destro del mouse rasterizza vedete li ho rasterizzati tutti in un colpo poi ci posizioniamo qui per esempio sulla V e anche qui ctrl T e poi clicchiamo all'interno sempre altera e vedete adesso possiamo alterare questa voce questa lettera e così possiamo creare dei testi personalizzati come vogliamo noi in questo modo e volendo naturalmente possiamo sempre usare anche scala ruota inclina come abbiamo visto precedentemente l'utilizzo di altera lo troverete spessissimo nei miei tutorial e un esempio classico è quello di adattare un'immagine ad un foglio dove sono presenti delle curve adesso vi faccio vedere l'esempio prendiamo questa immagine tolgo via le linee guida e come vedete abbiamo due livelli abbiamo qui il nostro libro con le due pagine e poi questa immagine adesso ctrl T e proviamo ad adattarla alla nostra pagina entro sempre dentro col tasto destro del mouse e poi proviamo a vedere innanzitutto ruoto e quindi vedete la ruota in questo modo qui la sposto e poi qui dagli angolini cerco di sistemarla con trasformazione riproviamo con trasformazione libera ecco qua vedete porto qui premo il tasto ctrl porto anche questo questo angolo qui lo metto qui direi che adesso anche questo lo spostiamo e portiamo qua così poi adesso entriamo sempre dentro altera e guardate adesso io mi posiziono porto qui questo angolo questo lo poggio qui qui e poi con i nostri indicatori eccolo qua vedete creo la curva trassino di qua abbasso un po' vedete ecco che posiziono perfettamente la mia immagine qui portiamo un po' così vediamo un po' la curva diciamo che qui è abbastanza dritto si sposto un po' poi qui passiamo qua questo lo portiamo qui e anche qui vedete la curva trassino in alto questo lavoro poi lo vedete anche in un tutorial del corso di photoshop ecco poi qui all'interno possiamo spostare per dare anche la piega qui alla nostra immagine premo invio ecco vedete che qui potevo essere un po' più preciso comunque avete capito come funziona altra e come possiamo intervenire in una nostra immagine per adattarla a qualsiasi situazione e alle volte conviene qui abbassare per un attimo l'opacità potete abbassarla ecco qua che riusciamo a vedere molto bene ancora con ctrl t e poi sempre con altra vedete poi sposto ecco qua che riesco a vedere molto bene dove inserire la mia immagine quindi rimetto un po' a posto quello che prima non avevo fatto direi che qui anche qui usiamo un po' ecco fatto e qui adesso riempiamo bene il bordo e premiamo invio poi ridiamo ancora l'opacità al 100% ecco qua la nostra immagine perfettamente adattata alla pagina del nostro libro torno ancora all'immagine del precedente perché vi voglio far vedere un'ultima cosa abbiamo visto prima adesso prendiamo ad esempio vedete questo qui la casetta qui di sinistra che con ctrl t abbiamo un livello pixel e quindi adesso io vado a trasformare trascino vedete abbiamo detto che trascinando da questa nuova versione 2019 la trasformazione avviene mantenendo le proporzioni se non vogliamo mantenere le proporzioni dobbiamo premere il tasto maiuscolo come era prima nelle precedenti versioni cioè prima quando noi trasformavamo bisognava fare l'inverso cioè premere il tasto maiuscolo per mantenere le proporzioni guardate però qui adesso abbiamo un livello normale in pixel ma guardate cosa succede adesso qui ho la casettina mi posiziono creo un nuovo livello e poi inserisco una forma prendo una forma personale andiamo a prendere ad esempio vediamo un po' il cuore creo la mia forma personale e adesso andiamo a trasformare con ctrl T poi ci posizioniamo qui sotto prendo il tasto sinistro e guardate cosa succede vedete non funziona con il livello normale con le forme dobbiamo come nelle versioni precedenti premere il tasto maiuscolo ecco che adesso noi possiamo aumentare diminuire il nostro oggetto in proporzione cioè possiamo trasformare in proporzione e quindi ricordatevi di questo direi che è tutto vi saluto ci vediamo al prossimo tutorial arrivederci